Eccoci qua, da pochi minuti terminata la live di Controcalcio dove abbiamo dato la notizia Notizia certa, notizia verificata, adesso ne parliamo a fondo Sto parlando di aggiornamenti sull'allenatore del Milan, sulla panchina del Milan che riguardano Antonio Conte Facciamo un passo indietro, sapete la mia posizione su Conte qual è da qualche decina di giorni Io non credo più che Conte possa allenare il Milan E al netto di quello che vi sto per dire, la mia posizione non è cambiata Io credo che il Milan prenderà qualcun altro, non prenderà Conte Questa è la mia personale convinzione da tifoso Che poi può rivelarsi sbagliata, come era sbagliata la percentuale del 95% che avevo dato precedentemente Non erano sbagliati gli incontri, le trattative, la volontà di Ibrahimovic di spingere per Conte La mancata volontà però dell'altra parte della dirigenza di prendere Conte come allenatore Quindi questi sono agli atti di cose che abbiamo raccontato Questa mattina ci svegliamo con una notizia Il mattino esce dicendoci che l'enturaggio di Conte e gli agenti di Conte incontreranno il Milan nei prossimi giorni Non definisce bene che giorno, non definisce bene chi sarà presente all'incontro Si parla di una possibile presenza in collegamento di Cardinale eccetera Quando io vengo a sapere di questa notizia da Damiano Erfaina Che mi informa questa mattina che il mattino è uscito così E mi chiede di verificare con le persone che ci informano sul calciomercato del Milan Quindi parte Milan, non parte Conte, parte Milan E mentre lui fa delle verifiche con qualcuno vicino a Conte Io questa mattina faccio le dovute verifiche Alle 11.30 ricevo la risposta Non la leggo fino alle 14 perché ero impegnato a fare altro Alle 14 la leggo al che di guaffaina Dobbiamo assolutamente dare la notizia alle 16 Perché la notizia è confermata Cioè quello che dice il mattino è assolutamente vero Quindi per una volta confermo quello che dicono i giornali L'enturaggio di Conte, gli agenti di Conte Incontreranno la dirigenza del Milan Che non vuol dire più Ibrahimović però Perché con Ibrahimović gli agenti c'erano stati Ma la parte non convinta della dirigenza Per avanzare delle... Per fare un confronto tra quello che richiede l'enturaggio di Conte E delle nuove richieste Perché le richieste di Conte iniziali non sono piaciute Ad una parte della dirigenza Ovvero due difensori importanti, ve l'avevo raccontato E la punta un po' una rivoluzione di modulo eccetera Probabilmente Conte ha rivisto le sue richieste Questo non lo so E ci sarà questo incontro per l'appunto Che da quello che mi dicono Sarà un incontro telematico Quindi non dal vivo Le parti si riuniranno in una videoconference Stessa modalità degli incontri avuti con Consai Saudi Un mesetto fa più o meno E discuteranno il tutto Non sappiamo ancora se parteciperà alla riunione anche cardinale Quindi la notizia è che Ibrahimovic ha convinto Quanto meno l'altra parte della dirigenza A parlare con l'enturaggio di Conte E a confrontarsi E vedere se L'idea di Conte E l'idea della dirigenza Possano collimare In qualcosa di unico In qualcosa di In un agglomerato di idee Detto questo io rimango convinto Che il punto di incontro non si troverà Ma questo ripeto È la mia opinione da tifoso Per come un po' conosco il Milan E per come conosco Da esterno l'efficiente di Conte Ah, anche Faina con le sue verifiche Ha confermato ovviamente Anche l'altro Conte Che ci sarà questo incontro Questo incontro dovrebbe essere O nella giornata di domani Hanno detto oggi Non è stato oggi Dovrebbe essere O nella giornata di domani O nella giornata di mercoledì Almeno questo è quello che sappiamo noi Ma in ogni caso l'incontro ci sarà Questo però Come ho tenuto a dire sul controcalcio Perché non voglio Illudere nessuno E rimango convinto della mia Non vuol dire che Conte Allenerà il Milan Vuol dire che ci sarà un incontro Vuol dire che c'è stata un'apertura Un benestare di questa parte Della dirigenza che non vuole Conte A incontrare l'entourage E capire In un dialogo diretto Le richieste Senza ibre che fata tramite Ma questo non vuol dire Che Conte allenerà il Milan Non illudiamoci Non facciamo voli pindarici Oggi 13 maggio 2024 Ci sarà l'incontro Fra Conte e la dirigenza del Milan Ma non vuol dire Che Conte allenerà il Milan Non iniziamo a illuderci Vuol dire che Si farà un confronto Ci sarà un confronto Fra le parti E qualora si trovasse un accordo Su cui poter magari lavorare Si potrà andare a nozze Altrimenti le cose rimarranno come stanno E il Milan andrà su altri allenatori Quindi non illudiamoci Lo dico io per primo L'incontro ci sarà 100% Ma non significa che Conte allenerà il Milan Opinione di Luca Non andrà come speriamo Poi magari sono pessimista Di natura Mi auguro di sbagliarmi su questo E questo è quanto Abbiamo scoperto questa mattina E quanto abbiamo lavorato Questa mattina A questa notizia Che complimenti comunque ai colleghi Colleghi Non sono giornalista io Complimenti ai giornalisti del mattino Che hanno dato Prima di tutto questa notizia Che quindi arrivano alla fonte giusta Io avevo pensato a un depistamento Scusate un depistaggio Non un depistamento Un depistaggio Sul fatto che Conte non andasse a Napoli In voler giustificare Invece Poi la notizia Mi è stata Confermata Io non so se Conte abbasserà di tanto Le sue richieste Perché chiaramente Conte Non è che viene a fare figure di merda Quindi qualcosa te la chiede Al di là dell'ingaggio suo personale A livello di calcio a mercato Per questo io non credo Che poi Troveranno la quadra Però la notizia È che c'è L'incontro Ed è un incontro importante Credo che sia l'ultima spiaggia Perché poi Se non va in porto Neanche da questa strada Difficilmente ci saranno Nuovi incontri Nuove trattative Se andrà Verosimilmente su altri Però è giusto Comunicarvi questa Questa notizia La sto facendo Ulteriormente verificare Per avere Ulteriori dettagli Sulla data Su eccetera Perché dovrebbe essere O domani O mercoledì Sappiate che non verrà Qualora loro Non trovassero la quadra Nell'incontro Non vi aspettate Che uscirà Di Marzio Che uscirà Pedullà A dirvelo Perché ora Non so al mattino Chi è arrivato A dirglielo Ma Cioè io sto vedendo Di Marzio Un giorno Parla di Consesao L'altro di Conte Mi sembra Molto confuso Sull'idea della panchina Del Milan Quindi non vi aspettate Che uscirà Questa cosa Dell'incontro Qualora non andasse A buon fine Però Se avete un briciolo Di fiducia E ve l'ho dimostrato Nel tempo Con Girù Fabrizio Romano Oggi ha ripostato Il tweet Del 23 aprile Io il 21 marzo L'ho data Al 100% Su contro calcio E l'avevo data A dicembre Che sarebbe andato In MLS Quindi se avete Un po' di fiducia Negli anni Perché poi Chi non mi conosce Non può fidarsi Ma chi mi conosce Sa che negli anni Ho anticipato Un bel po' di cose Di calciomercato Di infortuni E altro Sappiate che Questo incontro Ci sarà Da qui a dire Che Conte Allenerà il Milan Io non me la sento Perché dipende Tutto da come Andrà l'incontro Dalle richieste E quelle non dipendono Da me che do la notizia Ma dipendono Dai Dai diretti interessati Fatemi sapere Voi che cosa Ne pensate Seguitemi su Instagram Twitter e TikTok Il link è in descrizione Per avere tutte le ultime notizie Per il saluto A Olivier Giroud Sempre Forza Milan Iscrivetevi al canale Per rimanere sempre Aggiornati Che vi arriva la notifichina Soprattutto se le attivate Dopo esservi iscritti al canale Sempre Forza Milan